Un'envie, sì, profonda, non, perché ce l'avevo già spiegato prima di aver signato l'UFC Nantes, che ce n'eravamo ancora prima di che io arrivi. Mi sento bene, mi sento bene, il mio primo giorno in camp di training, un nuovo club, un nuovo avventurato per me. Soprattutto all'inizio il Palermo ci ha messo un po' in difficoltà, non riusciva a essersi pericolosi, poi sono riusciti due volte a bucare. Io sono Arnautlu, io sono Yabancì, il turco è solo un po' iniziato, non so, un po' iniziato, 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 un po' iniziato. L'Europa è una generazione molto buona, con i raggiungi, ma molto buoni, come Alaba, Jonozovic, Arnautovic e altri. Mi sento bene, 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 dirett per qualificazione, che è stato molto bene nel gruppo.